musica 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 mdt grado 0 è fuori chi non lo compra non è a minca fuori non è a minca fuori togli records da shippers e ulti giangani ci sono tutti spallare di più ulti giangani che quando ha registrato me ne toccherà minca fuori quindi si sente il fruscio pecca che non ci siamo io pure riusci si sente il fruscio del microfono della minca che strisce in terra usi non ha una minca un microfono musica 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 musica